Che possa slittare di qualche settimana ma che venga realizzato in quanto io come tutti gli altri miei colleghi abbiamo puntato su questa manifestazione come rilancio per un nuovo anno. Ancora grande incertezza sul futuro del Carnevale di Viareggio. La manifestazione si svolgerà nelle date attualmente programmate dal 12 febbraio oppure subirà uno slittamento a causa della pandemia? A questo guardano con preoccupazione i titolari dei negozi della Versilia che hanno investito molto sul Carnevale per la vendita di coriandoli, maschere e costumi. Prima del Natale sembrava che si potesse fare tranquillamente subito dopo quello del Carnevale settembrino ho fatto gli ordini normali come faccio ogni anno quindi ho ordinato sia costumi da bimbo che costumi d'adulto e anche accessori. Speriamo che si possa spostare il Carnevale magari a fine marzo, inizio aprile sperando che questo Covid sia calato e quindi si possa fare tranquillamente perché noi l'investimento per il Carnevale l'abbiamo fatto. Numerosi i costumi già ordinati cercando anche di intercettare le tendenze del momento. Quest'anno abbiamo puntato tanto su Squid Game che è una nuova serie tv Netflix che ha fatto milioni di ascolti quindi come è andato bene due anni fa la Casa di Carta, quest'anno dovrebbe essere l'anno di Squid Game come vestiti di Carnevale. Ma le classiche maschere più le nuove che riguardano gli Squid Game ma attendiamo il nostro burlamacco che ci dà la forza di ricominciare tutti gli anni.